«I ghi in balde, so pure mi ghi, und nix zu suchen, das war mein Zinn. Zum Garten truk ich am Hübschung» Cristo Santo Enzo, è successo un macello qui. Tre vittime, un'intera famiglia. È stata uccisa anche una bambina. Ti sei già fatto qualche idea sul caso? E ancora presto. E quelle lettere? Perché hai lasciato solo la tua figlia? Perché l'hai abbandonata? Il caos si infila. La città dei figli sbagliati. Il contenitore. Il contenitore. Il contenitore. La città dei figli. Il contenitore. Il contenitore. Il contenitore. E quelle lettere?